Sarà una grande immobilitazione di piazza, quella lanciata da FIM, FIOM e WILM, la prima degli ultimi 40 anni. A Roma, in Piazza del Popolo, il prossimo 18 ottobre si svolgerà la manifestazione nazionale con i lavoratori di Stellantis e del settore automotive. Gli operai incroceranno le braccia per otto ore e saranno in piazza per difendere l'occupazione e costruire il futuro dell'industria dell'auto, dicono i sindacati. Sarà una giornata molto importante, dobbiamo dare un segnale forte a Stellantis che in questo momento ha tutte le fabbriche ferme in cassa integrazione, ha sospeso il progetto Gigafactory a Termoli e non ha nessun tipo di politica di sviluppo sul territorio. Il crollo della produzione, la cassa integrazione negli stabilimenti italiani, Termoli a Tessa da questo punto di vista non fanno eccezione, preoccupano fortemente. E poi, e questo è un altro sintomo della crisi del gruppo, è in discussione la riconferma di Carlos Tavares come amministratore delegato. Il manager riporta oggi il sole 24 ore e sotto esame per scorte e performance negli Stati Uniti. Ma la mobilitazione del 18 ottobre servirà anche a lanciare un segnale al governo Meloni. Al governo chiediamo di finanziare gli ammortizzatori sociali che in molte realtà sono ormai in scadenza, con il rischio concreto di licenziamenti. Ecco perché è fondamentale la massima partecipazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori del gruppo Stellantis.